Nel 1987 Dino Viola voleva costruire lo stadio della Roma su terreni suoi e con soldi suoi. L'operazione fu definita da palazzinari e fu bocciata. Preferirono invece rifare l'Olimpico senza collegamenti né posteggi, costi triplicati a 200 miliardi di lire. Oggi, dopo i recenti fatti di cronaca, pare che lo stadio della Roma dovrà aspettare un tempo indefinito e indefinibile. Gli americani dicono che vogliono scappare, ma come fare a non capirli? Nel mentre la burocrazia sta bloccando la costruzione o il rifacimento di stadi, a Bologna, a Firenze, a Venezia, a Palermo, a Cagliari hanno arrestato tutti. Solo Juventus e Udinese ce l'hanno fatta. Ora, noi italiani saremmo anche un po' particolari, ma se nel resto del mondo a fare uno stadio ci mettono due, tre anni al massimo, c'è qualcosa che non va nel nostro sistema. Non sarebbe il caso che il governo facesse una task force di deforestazione burocratica e aiutassi ai privati, facendo rispettare loro le regole, a rifare o a costruire questi benedetti stadi. Sono troppo importanti, al di là del calcio. E questo è un minuto.